Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, sono Luca Malorni e sono un oncologo e ricercatore all'ospedale di Prato Santo Stefano. Mi fa moltissimo piacere oggi poter fare questo saluto e questo augurio alla Vita e Donna, questa nuova associazione che si costituisce nell'Alto Casertano per le donne diagnosticate con un tumore alla mammella. Guardate, sono veramente contento di questa notizia della costituzione di questa associazione perché io sono nato a Piedeo Montematese, tutta la mia famiglia vive nel Casertano e quindi sono molto attaccato, molto affezionato a questo territorio e mi fa molto piacere che sia stata costituita questa associazione perché dimostra appunto la sensibilità e la voglia di aiutare gli altri soprattutto quando c'è di mezzo una patologia ormai sempre più frequente come il tumore al seno. Voi sapete bene perché fate parte di questa associazione avete avuto la forza e la voglia di farla nascere che non c'è niente di più importante per una donna che venga diagnosticata con un tumore al seno avere dalla sua parte sapere di avere come punto di riferimento altre donne che hanno già attraversato questo problema e che quindi possono dare punti di vista, consigli, anche piccolissime cose che però possono fare la differenza in un momento ovviamente così difficile. E quindi questo insieme ovviamente al lavoro dei medici, al lavoro degli infermieri, dell'equipe sanitaria, sul territorio è un lavoro importantissimo che sono sicuro questa associazione saprà apportare a tutte le donne che vorranno rivolgersi ad essa. Una cosa voglio sottolineare è che queste associazioni però non sono importanti soltanto per le pazienti ma sono molto importanti ovviamente anche per gli operatori sanitari, quelli che si occupano del percorso di cura di queste patologie ma sono anche molto importanti per chi come me per esempio si occupa anche di ricerca scientifica. Non vi sembri strano ma è proprio così perché ormai da tanti anni negli Stati Uniti sicuramente ma anche più di recente in Europa ed in Italia queste associazioni hanno una voce anche in processi decisionali importanti come per esempio quello di decidere quali progetti di ricerca vengono finanziati e quali no. E' proprio così in effetti già da tanti anni nelle commissioni che decidono l'assegnazione dei fondi di ricerca non ci sono solo figure tecniche in grado di valutare dal punto di vista proprio metodologico e anche amministrativo la bontà di un progetto ma ci sono anche le cosiddette patient advocate cioè quelle persone della volontariato che sono al loro modo esperte del tema e che portano nel loro giudizio che danno di quel particolare progetto il punto di vista della paziente e quindi questo pesa questo giudizio che viene dato pesa poi nel decidere a chi viene dato a chi non viene dato un finanziamento. Quindi questo che cosa fa? Non solo diciamo rende più trasparente e rende anche più diciamo completa la valutazione di questi progetti ma spinge anche chi come me per esempio fa questo mestiere anche del ricercatore di avvicinare il proprio progetto e la propria idea di progetto alle reali necessità dei pazienti per poter quindi portare avanti una ricerca che sia sempre più orientata a migliorare la qualità di vita e le condizioni diciamo di vita delle delle pazienti più in generale e quindi capite bene come questo punto di vista il vostro punto di vista e quello che con questa associazione riuscirete anche ad imparare perché sono sicuro che lavorando sul territorio e imparerete tante cose potrà essere di grande aiuto non soltanto al territorio non soltanto agli operatori sanitari ma anche a chi fa ricerca scientifica e potrebbe rivolgersi a voi per avere un parere su quello che viene fatto quindi con questo concludo il mio saluto vi ringrazio per questa bellissima iniziativa ringrazio analisa damasco la presidentessa della dell'associazione la vita e donna la segretaria ilenia rizzollo e tutte quante gli amici e gli ami e le amiche che vorranno partecipare a questa associazione vi faccio il mio in bocca al lupo per un ottimo lavoro e spero di potervi incontrare presto di persona quando tutto questo distanziamento potrà essere dimenticato un saluto a tutti e un buon lavoro ancora